Il tabellone dei play-off Scudetto si appresta a vivere l'ultimo emozionante atto dei quarti di finale, con Milano, Brindisi e Virtus Bologna spettatori interessati e sereni dopo il 3-0 col quale hanno superato il primo turno. Lo hanno fatto nettamente sia l'Olimpia che l'Epicasa, mentre la formazione felsinea, pur imponendosi con lo stesso risultato complessivo, ha sofferto non poco sia in gara 2 che soprattutto in gara 3 nel Palaverde, battendo la De Longhi Treviso soltanto dopo un tempo supplementare. Stasera nel Tagliercio di Mestre va in scena gara 5, la bella tra Banco di Sardegna Sassari e Umana Reier Venezia, che hanno sempre sfruttato il fattore campo, ma con rocambolesche situazioni di punteggio che soltanto nel terzo atto hanno registrato nel Palasera di Migni il netto dominio della compagine isolana di coach Pozzecco. La vincente della sfida decisiva di stasera affronterà in semifinale la corazzata milanese di coach Ettore Messina, mentre Brindisi e Bologna sono già concentratissime sulla propria semifinale, che vedrà l'Epicasa disputare gara 1 e gara 2 nel Palapentassuglia, con il ritorno del pubblico, sia pure nella misura massima di 500 presenze. La squadra di coach Frank Vitucci, che ha battuto la Sega Fredo sia nell'andata che nel ritorno, potrà quindi sentire il calore di una parte del popolo bianco-azzurro. Si giocherà domenica 23 e martedì 25, sempre alle 20.45, mentre gara 3 in programma mercoledì 2 giugno nella Sega Fredo Arena, dopo la pausa per la Final Four di Eurolega. Un'intera città si appresta a vivere questa esaltante esperienza. Per la prima volta Brindisi in semifinale play-off, step inequivocabile di una società che ormai fa legittimamente parte dell'elite del basket. Grazie a tutti.